Per la terza sezione del convegno, la realtà delle malattie rare nelle singole aziende, io sono in compagnia di Gioacchino Scarano che rappresenta il rumbo di Benevento. L'azienda di Benevento, la rumbo di Benevento, l'azienda ospedaliera, ha in circa decina d'anni avviato quello che noi chiamiamo percorso diagnostico assistenziale o PDTA come si chiama adesso per i pazienti con malattie rare. È uno degli ospedali di riferimento regionale che può certificare quasi tutte le malattie presenti nell'elenco e a proposito dell'elenco, una delle prime criticità che bisognerebbe sostenere, che la gente deve sapere, è che le diseguaglianze create da questo elenco sono inaccettabili perché le malattie rare sono molte di più, sono almeno 15.000 quelle che conosciamo noi solo in genetica e non esiste che uno possa avere dei benefici perché c'è nell'elenco e molti altri no perché non ci sono un elenco. Quindi bisognerebbe cominciare a farci fare il nostro lavoro. Siamo noi a dire se è rara o non è rara, non certo un elenco, anche se in Europa vogliono fare così. Questa è la prima cosa. La criticità invece più regionale è che le difficoltà oggettive che sono state anche manifestate stamattina dai pediatri di famiglia, dai medici di famiglia, sono sempre le stesse. Ognuno vuole essere contattato, però nessuno contatta. Allora io do il mio cellulare a tutti, però i pediatri di famiglia che mi contattano sono uno su cento. Quindi la risposta per me ai pediatri di famiglia è questa, se volete contattatemi perché voi lo potete fare, io non posso contattare i medici di mille pazienti, sono l'unico quindi è giusto che siano loro a contattare me e io hanno tutta la mia disponibilità. E poi l'ultimo aspetto che diciamo ci ce l'ho prodotto suo è che il numero di persone che hanno competenze in genetica clinica e quindi sono capaci di fare le diagnosi in questa regione è inferiore a 10. E di conseguenza con 10 persone su 6 milioni di abitanti non andremo da nessuna parte se non ci sa la parte della regione, comprensione di questo fenomeno e in qualche maniera un rinforzo delle nostre competenze utilizzando risorse umane che ci sono, giovani, capaci, che però sono precari o sono addirittura senza lavoro perché non è possibile assumerli. Non si tratta di assumere 2.000 persone, si tratta di assumere una decina per il momento che sarebbe più che sufficiente per farci lavorare in maniera più degna. E per il santo bono è intervenuto il dottor Carmine Pecoraro che aveva avanzato qualche perplessità sul registro. Quale strumento è efficace? In realtà io ritengo che il registro sia assolutamente uno strumento molto efficace e plaudo ovviamente all'iniziativa delle regioni e al coordinamento da parte del professore Andrea. Però perché questo possa essere un vero strumento efficace? C'è necessario che vengano corretti alcuni errori di fondo che sono sostanzialmente l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare che è assolutamente ormai desueto, un po' perché chiaramente l'elenco delle malattie rare è destinato ad allungarsi sempre di più e molte di queste nuove anche ormai ben conosciute non sono state aggiornate e questo discrimina fortemente i pazienti con malattia rara non riconosciuta e non codificata rispetto agli altri. E in più perché anche l'assegnazione, per esempio faccio riferimento al Santo Bono, l'accreditamento da parte della regione di vari scienti di riferimento è incompleto rispetto ad alcune gruppo di malattie. Faccio in particolare riferimento alla nefrologia che nell'elenco delle malattie rare come raggruppamento delle malattie geniturinarie, gruppo 10, vede solo tre malattie mentre sono almeno 15 le malattie rare esquisitamente nefrologiche che il nefrologo diagnostica ed assiste e che invece costringe il paziente ad un comportamento schizofrenico che è diagnosticato e trattato dal nefrologo e poi perché la malattia invece appartiene ad un altro raggruppamento deve andare in un altro ospedale o in un altro posto per farsi certificare e quindi abbiamo presentato su richiesta della regione, devo dire, questa nuova riassegnazione nell'ambito appunto dell'ospedale e quindi sollecitiamo la riunione del comitato tecnico che faccia questa riassegnazione e l'accrediti in modo che il paziente con malattia nefrologica rara o altra venga seguito dal medico che l'ha diagnosticato e l'ha seguito. Sono accompagnata la dottoressa Paola Lauria che è responsabile dell'ASL di Avellino per quanto riguarda questo speciale censimento delle malattie rare che si sta operando in questi mesi. Dottoressa quali sono i risultati, i nuovi sviluppi? Sì, in effetti in tutto gli ultimi mesi del 2011 abbiamo collaborato col centro di riferimento regionale per recuperare informazioni sulle malattie rare. Infatti abbiamo dagli archivi storici dell'ASL, abbiamo recuperato tutte le esenzioni ticket rilasciate ai residenti della nostra azienda e le esenzioni ticket rilasciate sulla scorta di certificazioni effettuate dai centri di riferimento e quindi finalmente siamo arrivati a realizzare una vera e propria fotografia o mappatura del territorio per cui questo congresso oggi effettivamente si svolge con una tempistica eccezionale perché si parla di malattie rare in un momento in cui abbiamo la fotografia del fenomeno e quindi la consistenza del fenomeno. Tra le patologie rare in oggetto del convegno ho anche la malformazione di Arnold Chiari. Io sono con il dottor Carriere che è uno dei massimi esperti locali e quindi chiedo subito di darci qualche cenno sui sintomi della patologia e soprattutto di parlarci delle nuove frontiere. La malattia o malformazione di Chiari anche se descritta alla fine del 1800 tuttora resta un'entità sconosciuta per la maggioranza dei medici. È importante quindi questo incontro per cercare di capire un po' quali sono i primi segni della malattia. Purtroppo la malattia molto spessa è asintomatica e la scoperta può essere del tutto occasionale. Che cos'è la sindrome di Chiari? È una malformazione. Una malformazione caratterizzata da un incuneamento di una parte del cervelletto, la parte più bassa del cervelletto, attraverso il forame magno. Che cos'è il forame magno? Quella struttura che mette in comunicazione la scatola cranica con la cavità della colonna vertebrale. Un incuneamento di queste strutture cerebellari all'interno della colonna vertebrale determinerà sicuramente una sofferenza delle strutture vicine. Scopo del medico e dello specialista è cercare di individuare il più presto possibile questo tipo di lesione e intervenire con opportuni accorgimenti che potranno essere un semplice trattamento farmacologico oppure, come dicevo prima, la possibilità di un intervento chirurgico. Mi interessava anche conoscere qual è l'iter che il paziente dovrebbe seguire, quindi qual è lo specialista a cui dovrebbe rivolgersi. In modo particolare lei consiglia anche di riferirsi ad associazioni legate a questo tipo di patologia. Sì, le persone che scoprono di avere questa sintomatologia per caso, come dicevo prima, oppure perché presentano una sintomatologia peculiare, possono rivolgersi direttamente a uno specialista oppure anche a questa associazione che attualmente è presente in campagna, si chiama ISMAC, il suo referente è il dottor Mazzella che è una persona estremamente impegnata in questo campo, che poi cercherà i necessari contatti con gli specialisti adatti al caso. Come dicevo prima, il neurologo probabilmente è la figura di riferimento, però il neurologo si avverrà della collaborazione di altri specialisti come il neurochirurgo, il fisiatra, il radiologo naturalmente, per valutare e approfondire determinati aspetti della sintomatologia. Sono con il dottor Perrotti, presidente della quarta sessione di lavori, PDTA e malattie rare, io immagino che sia anche lei orgoglioso di questo convegno. Sono orgoglioso del convegno come direttore del Dipartimento Materno e Infantile del Moscati e ho ringraziato pubblicamente con molta stima la dottoressa Davanz perché dirigendo io un centro che ha un centro nascita associato con migliaia di nati, avere molto vicino a noi una struttura come la genetica medica che può aiutarci a diagnosticare e poi seguire quelle malattie rare che possono venirsi a manifestare rispetto a un alto numero di nati è un modo che ci facilita il lavoro e ha una garanzia anche ai neonati, alle persone, ai bambini che vengono al mondo. Nella quinta sessione dei lavori del convegno ci si occupa della sindrome di Williams e io ho l'onore di essere in compagnia del dottor Bellastella che poi è anche il direttore del Dipartimento di Endocrinologia e quindi possiamo parlare anche un po' di queste malattie endocrinologiche nell'ambito sempre delle patologie rare. Sì, innanzitutto la malattia di Williams è una malattia dovuta a un'alterazione che si trova su un particolare cromosoma, il cromosoma 7 e questi bambini che ne sono colpiti possono andare da fenotipi molto lievi con poche alterazioni, alterazioni molto importanti che riguardano soprattutto anche all'apparato cardiovascolare. Per quanto riguarda le malattie rare su base endocrinologica ci sono malattie che interessano soprattutto la sfera riproduttiva, maschile in particolare, come la sindrome di Klineverter e la sindrome di Kalman. Sono situazioni in cui alterazioni cromosomiche impediscono la normale evoluzione della gonade maschile per cui questi soggetti possono andare incontro a alterazioni ad infertilità o a disturbi anche dell'attività sessuale. Oggi basta che ci sia anche un solo precursore di uno spermatozoo che si preleva dal testicolo e si può fare attraverso la fertilizzazione assistita a cosiddetta ICSI, questi soggetti possono avere anche il piacere di diventare padri.